Lo spettacolo Vergine Madre sarà trasmesso in streaming ma anche sulla rete di Tele Liguria Sud martedì. Quanto può essere importante trasmettere questo spettacolo che appunto ha un messaggio di salvezza? È fondamentale, la riflessione che abbiamo fatto è quella che nonostante la pandemia, nonostante i DPCM, la vita deve andare avanti, la vita del teatro deve vivere, la vita culturale deve vivere per ridarci senso a ognuno di noi, alla propria vita, ai propri valori. Per fare questo noi abbiamo deciso di portare il teatro nelle case degli spezzini e non solo nelle case perché con i social faremo proprio un ragionamento personalizzato per ognuno delle persone che vorranno vedere. Ed è anche un messaggio augurante nel senso che noi siamo pronti a partire, a ripartire, speriamo fra poco perché non possiamo disperdere il valore culturale e patrimoniale di quello che è il teatro. L'8 dicembre per chi crede è un giorno particolarmente importante e questo è il dono che l'amministrazione ha voluto fare a tutti gli spezzini. Forza, speranza per un futuro migliore però sempre più umano. Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria sono cambiate tante cose nel teatro, ma in particolare che cosa? Beh, cosa è cambiato? È cambiato che è stato un anno davvero difficile, davvero complesso, complicato per tutti noi ed è un anno particolarmente complicato per la cultura. C'è da dire che noi del teatro, i teatranti, hanno fin da subito reagito con forza, abbiamo resistito, noi ci siamo e il segnale che vogliamo dare è che noi ci siamo, ci siamo sempre stati, ci siamo adeguati a tutte le regole che ci hanno dato, rispettandole dalla prima all'ultima. E purtroppo siamo ancora qua adesso a combattere, a combattere ma non abbiamo perso la speranza. E questo spettacolo, uno spettacolo di grande speranza, è uno spettacolo dove Lucilla Giagnone, la grande interprete, attrice, autrice, insomma, che ha collaborato con nomi dell'importanza di Vacis, Baricco, Marco Paolino, insieme a non c'è bisogno di ulteriori presentazioni, ci conduce per mano attraverso un viaggio dove Dante, forse in qualche modo con questi famosi sei canti, viene da metafora della vita che stiamo vivendo. Forse Dante, più di ogni altro in questo momento, ci aiuta a comprendere l'inferno che stiamo attraversando. Poi io ci tengo a dire un'ultima cosa, per me è molto importante, perché nell'ultimo anno ci siamo abituati a pensare all'uomo e alla donna come contenitori di batteri, di virus. Io credo che prima ancora che i contenitori di virus, di batteri, noi siamo contenitori di anima e dobbiamo curarla, l'anima. Io immagino e penso e sostengo che la cultura sia il farmaco migliore per prendersi cura dell'anima. La cultura è una carezza e in questo momento ne abbiamo bisogno più di ogni altro, non possiamo fare a meno di una carezza e non possiamo fare a meno della cultura.